Loredana Lecciso Loredana Lecciso a Domenica Live, non voglio giudicare Romina Ospite Domenica Live, Loredana Lecciso ha parlato anche del suo rapporto con Romina Power. I rapporti tra Loredana Lecciso e Romina Power non sono sempre stati dei migliori. La loro vicinanza ad Albano le ha portate a scontrarsi in diverse occasioni, ma oggi Loredana non sembra essere più turbata della cosa. Dopo le diverse frecciatine lanciate da Romina sul rapporto che, da decenni ormai, la lega al suo ex marito, la showgirl a Domenica Live ammette di non avere alcun problema al riguardo. La fine di una storia non deve essere sempre burrascosa e vedere Albano e Romina in buoni rapporti la rincuola. Ad essere però molto bravo a gestire i rapporti con le donne e con i rispettivi figli, ammette Loredana, è soprattutto il cantante di Cellino San Marco. Loredana Lecciso parla di Romina Power, non giudico la vita di Romina. Spinta a commentare le dichiarazioni rilasciate da Romina, dove la cantante confessava il suo passato promiscuo e il consumo di droghe, la Lecciso afferma, non giudico la vita di Romina. La sua educazione è stata diversa ma rispetto la sua storia ha aggiunto dopo. Loredana poi parla di famiglia, una visione di insieme che, stando a quanto detto, si avvicina molto più a quella di Albano che di Romina. Che è qualcosa che comunque ci accomunerà sempre dice però riferendosi alla cantante sono molto felice che lei sia la mamma dei fratelli dei miei figli. La vacanza a Budapest con Albano. La famiglia insieme. Il periodo trascorso a Budapest con Albano è stato per Loredana un momento magico. Circondata da amici e persone care la Lecciso ha passato in Ungheria dei giorni veramente speciali. Sul fatto che Romina, proprio in quei giorni, si fosse esposta sui social pubblicando foto di lei e Albano insieme da giovani, la subretta da Barbara D'Urso non si è scomposta. Alla polemica alimentata dai giornali dunque Loredana Lecciso non ha voluto controbattere. Ciao! 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 Ciao!